Andiamo avanti, forza, cammino. Sio, ci vogliamo ripensare. Ma che? Tu sei sicuro che questa è la strada mia? Strada, non strada, è quasi 30 anni. A 30 anni la gente si è sposata con figli, si è piazzata e strappiazzata. E tu che hai fatto in 30 anni? Ma ho fatto, ho fatto. Rispondi, che hai fatto? Concorsi, disastrosi concorsi. E non mi dire che non sei stato appoggiato, eh? Oppure che sei stato sfortunato. La realtà, purtroppo, caro Marino, è un'altra. E tu sei una gran testa di cazzo. Ma che sta a me fa? A te, a te, a te, a te. Ok. Vai, vai, vai. Allievo, chi pitti al telefono? Presto, che tua madre con i cittori con dati scattare! Te mancava il paragadute. Qui lo possiamo fare. Chi lo fa il ladro? Fallo di... Vabbè, fammi la conta, per me... One, two, three. Uno a me e il ladro lo fai di... E te pareva? Va, dai, sbrigiamoci. Concentriamoci, non c'è nessuno, dai. Io ladro e tu carabinieri. Io carabinieri, carabinieri. Dai. Bastardo! La pagherai! Sta zitto, stronzo! Credevi di farmela, eh? Mettete qua! Buttate l'inquente! Tra! Pagherai! Accorgia che non si spugge! Non cercare di farla franca! Dove cavolo vai? Carabinieri pitocchiosi! Zitto! L'inquente avanzo di galera. Nata bene, no? Mazza! Sono stato veloce, no? Dai, dai! A me altro che coggia, che a me non mi sfugge niente! Levala, dai! Oddio, mi è sfuggita la chiave! Come la chiave? È andata nel tombino. Ma come nel tombino? Ma ora sono cazzi tuoi! Ma che stai a scherzare? No, ce l'abbiamo in dotazione una calamita! Ma tu sei scemo sei! Ma leva me queste manette qua! Due minuti, mi è venuta l'idea! Due minuti dove? Due minuti, vada a cercare Fabro e torno! Ma non c'è stanno i Fabri qua! Servo un Fabro, sta calmo! Dai, spicciate! Sbrigate! Stai buono! Guarda sulle pagine gialle, dai! Si, mossa che a me il tombino con le pagine gialle! Ce l'ha un Fabro, una lima, una raspa! Muovite, muovite! Vada a chiamare Fabro! Ha bisogno di qualcosa? Ma di che? Ma vattene che non posso stare così! L'avetevo piegato! Sto qua! Grazie, andate, andate! Come non detto! E va? E ora me ne vado! Vattene, va! Glauco! Che figuraccio che mi hai fatto fa! Io mi domando e dico, come ti è venuto in mente? Diciamo che è stato un colpo di testa, eh? Si, un colpo di testa di cazzo! Renato! Bisogna essere proprio dei fessi! Io capisco Firenze, Venezia, ma farsi sbattere poi da Biela Piazzo, dove la gente non sa nemmeno dove cazzo sta! Renato! Senti, la cattiva parola non ha forza il discorso, tu non mi fai nemmeno parlare! E allora continua in questa maniera, vai! Questi motivi, sentiamo questi motivi! No, perché io penso che la funzione del carabiniere oggi, zio, sia anche quella del contatto quotidiano proprio col popolo di una stazione di un piccolo paese! E questo è il classico motivo del cazzo! Renato! Senti, Renato, andiamo a sentire il telegiornale, che sono le 8! Andiamo a sentire queste regnacce, stasera abbiamo andato a sottare! San D'Antonio, San Giuseppe e San Darida! San D'Antonio verde, San Giuseppe verde, San Darida vinge! Segui bene, eh? Dove sta San Darida? Silenzio! Devi indovinare dove sta San Darida, San Darida dove è? San D'Antonio, San Giuseppe e San Darida? San Darida sta qua! Ecco! Qua! Allora! Ah, dove sta San Darida? Quando i ragazzini punti tu? Uno! Io sempre 50.000! Su! Dove sta San Darida? San D'Antonio? Mi dispiace! Averzo! Vai! Forza! Va! Volemo giocare a raduccio? Tu te giochi due ragazzini e me gioco 100.000? Oh, mica difficile sa? Guarda! San Darida, San Giuseppe e San D'Antonio! Tu Bari! San D'Antonio! Figliolo, come paro? E che cioè, i Sandini truccati? Prova a vincere un'altra volta! E può essere! E' un gioco! Se vince... Rifallo! Se vince, se perde! Certo, con piacere! San D'Antonio! San Giuseppe e San Darida! San D'Antonio! San D'Antonio! San D'Antonio! Ma più piano mica mi viene bene? Viene bene! Rifallo! San Giuseppe, San D'Antonio, San Darida! Guarda qua! San D'Antonio, San Darida, San Giuseppe! Ecco! Ah, dove sta San Darida? Hai perso, frate! Hai visto? Che ti dicevo un gioco? Oh, mo' ho perso io! Prima ha perso te! E vabbè, te pago, no? Mo' ti do le 50.000 lire! Non c'è problema! Non c'è... Ah! 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 Grazie